di cui non traiamo nessun vantaggio, di conseguenza quello che noi abbiamo detto l'altra volta non è stato rispettato. Strade non spazzate, strade sporche, rifiuti che non vengono prelevati, ingombranti che non vengono prelevati. E poi noi abbiamo chiesto un impegno che era fondamentale per questa città, era l'isola ecologica. Siamo al 20, insieme anche il dirigente disse abbondantemente ce la faremo, non abbiamo l'isola ecologica. Per noi come parte politica, come dice il dottor Greco, questa è la nostra proposta, per noi non ci sono le condizioni di poter andare avanti con la vostra vita e di conseguenza se non verranno rispettate queste voci dei cittadini si assumeranno le responsabilità i commissari ma in particolare i dirigenti perché i dirigenti sono coloro i quali rimarranno quindi saranno loro a metterci la faccia in un percorso continuato. I commissari potranno pure giustamente continuare questo processo e arrivederci e grazie.